Siamo venuti qua per presentare sia prodotto Eni che prodotti limitrofi a quello che è il lubrificante e il feedback devo dire che è stato molto positivo, è stato uno degli eventi più interessanti e più profiqui nel quale abbiamo partecipato nell'ultimo periodo. Sì, ci aspettavamo di incontrare molte figure importanti, alcune che già conosciamo e quindi rafforzare il nostro rapporto essendo presenti qua, come ad esempio Obi che è un'istituzione nel mondo del bricolage e è stato molto proficuo l'essere qui dentro a rappresentare la Fratelli Magni. Sicuramente un arrivederci perché nell'ottica di ingrandirsi magari ci saremo anche con uno spazio più grande, chi lo sa.